Una buona giornata dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Traffico al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Prestare attenzione per nebbia a banchi segnalata in A1 tra Monte San Savino e Fabbro e tra Firenze Sud e Valdarno e in A11 tra Alto Pascio e Lucca e tra Pistoia e Prato Est. Sulla 1 chiuso il tratto tra Rioveggio e Aglio in entrambe le direzioni per lavori. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero tratto chiuso per cedimento della strada tra Borgo Ammozzano e Bagni di Lucca. La viabilità cittadina a Firenze. Da oggi chiusura della corsia di via Piercapponi da Viale Donminzoni per i veicoli diretti verso Piazza della Libertà. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!